ecco come lo vedi beh ecco signori questo è il pubblico che aspettava Valentino Valentino contro la firma dell'autografia insieme come si nota non cara la massa di pubblico aumenta ogni momento il mio nipote è di 4 anni prima che partisimo in un zio però ti raccomando la foto con Valentino certo è un mio amico cosa fa questo? cosa fa? chi è? quello col kart col motore Ducati con il disabile no sono pazzo io ho un disabile prima stava facendo i testa a coda mi sembra un po' troppo abbiamo un problema cosa faccio? il cuore? il cuore? il cuore? io lo vedo dall'auto non è bellissimo ma vedete il cuore il cuore il cuore il cuore il cuore 3 3 c'è uno il cuore che sta cercando di farsi strada con il kart nella folla per farselo firmare io sono in sala stampa quindi li vedo dall'alto dove si è andato a intervenire dove è il bambino? qui sotto vedi questo degli angoli questo corina nell'angolo basta quindi si è andato a disegno